Sono Don Pasquale Cascio, Arcevescovo di San Angelo dei Lombardi, con Sanusco Bisaccia. Possiamo continuare ad ascoltare la parola di Dio e a dialogare insieme sullo spazio riservato sulla rivista In Cammino con San Gerardo, la rivista della famiglia Redentorista, dove la parola di Dio fa sì che le idee diventino valori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pace a voi. Benvenuti a Parlato per mezzo dei profeti. Iniziamo un'avventura. L'ascolto di Dio che ci parla perché ha parlato per mezzo dei profeti. E in quella parola noi sentiamo una parola anche per noi. Dove siamo? Siamo nella chiesa cattedrale di Sant'Angelo dei Lombardi. è l'arcidiocesi antica, Sant'Angelo dei Lombardi, con Sanusco e Bisaccia, di cui sono pastore e arcivescovo. La cattedrale è il luogo, simbolo, centro della diocesi, della comunità diocesana. Come in ogni chiesa c'è il luogo della parola, l'ambone, c'è il luogo della eucaristia, l'altare del sacrificio eucaristico, c'è la cattedra. Ecco perché è chiamato a cattedrale. La cattedra è la sede da cui il Vescovo presiede la sua comunità e parla alla sua comunità. Siamo qui per fare esperienza di ascolto con voi e quelli che in qualche modo vi rappresentano, queste amiche che sono qui davanti a me per ascoltare, per domandare e per ascoltare ancora. Volete presentarvi? Io sono Elisa Io sono Tania Io sono Adriana Sì, sono tutte e tre di questa diocesi e quindi in qualche modo rappresentano la comunità diocesana che in questo luogo vede il suo centro. Ogni celebrazione che riguarda tutto questo territorio della provincia di Avellino, da un punto di vista di fede e di ecclesialità, ha qui il punto di riferimento. La chiesa cattedrale, la casa in cui la diocesi si ritrova con il suo Vescovo per i momenti più belli, più solenni e più importanti. E iniziamo qui la nostra avventura perché Dio parla attraverso delle persone e in luoghi precisi. Il profeta è proprio, ecco, l'esempio centrale per noi di Dio che parla con una persona in un luogo e in un tempo. E in qualche modo stare qui e rivivere l'esperienza profetica. Ci siamo noi, c'è questo luogo e c'è il tempo che viviamo. Un tempo in cui però quella parola ancora viene letta e ascoltata. Chi è il profeta? Lo Spirito Santo, Dio, ha parlato per mezzo dei profeti. Chi è il profeta? Infatti, Don Pasquale, il profeta al giorno d'oggi è una figura quasi abusata, è un termine abusato in vari settori della società. Si autodefiniscono profeti politici, addirittura nello sport. Invece, chi è il profeta? Sì, ecco, nell'accezione comune il profeta è colui che parla in anticipo, perché sa in anticipo. Invece, per la scrittura, non è colui che parla in anticipo, perché sa in anticipo e prevede. Il profeta, per la scrittura, è un uomo che vive un'obbedienza. E in quell'obbedienza deve imparare quello che un altro, Dio, vuol comunicare. E quando ha imparato quello che un altro può comunicare, allora parla. Quindi dobbiamo un po' rovesciare la situazione, perché nel nostro tempo il profeta è protagonista. Per la scrittura, invece, il profeta è un obbediente, perché prima deve obbedire a una chiamata, poi deve, con fatica, capire chi l'ha chiamato, che cosa vuole, poi scoprire che vuole che dica qualcosa agli altri per conto suo, e poi finalmente andare a dire con coraggio quello che quest'altra persona che l'ha chiamato vuol dire. Io volevo fare una riflessione. Oggi il termine obbedienza suscita anche qualche, diciamo, un pensiero contrario, perché forse proprio in questo contesto ognuno cerca di andare e di cercare l'obbedienza in quello che crede, più in quello che ascolta, più in quello che... Che può significare oggi anche per noi obbedienza? È un termine un po' particolare. È un termine fuori moda. Ho sfatato che cos'è il profeta, che non è uno che gioca ad anticipo e sa prima, e dice prima. Adesso dobbiamo andare a cogliere quest'altro termine, che è una parola fuori moda. Ecco, obbedienza potremmo dire proprio alla lettera, significa uno che ascolta l'altro con attenzione, ode, ode l'altro, ascolta quello che dice ed è pronto a fare quello che l'altro gli dice. Dunque il profeta è colui che ascolta e si mette anche nella disponibilità a fare. Se non fosse così, non potremmo noi dire ha parlato per mezzo dei profeti, perché non ci sarebbero persone disposte a dire parla, ti ascolto e poi sono pronto anche eventualmente a fare quello che tu mi dici. Scusi Don Pasquale, oggi a me sembra difficile spesso mettersi in ascolto e capire quando colui di cui noi stiamo parlando adesso, quindi Dio ci sta parlando, cioè molto spesso noi non, cioè come si dice, sentiamo ma non ascoltiamo. Sì. Quindi come fare per ascoltare? Sì, allora il profeta insegna che ci si mette in ascolto quando si incomincia ad ascoltare se stessi. Perché l'esperienza profetica è un'esperienza eminentemente interiore. Oggi è difficile ascoltare perché si fugge proprio dall'ascoltare se stessi. Si ha paura di ascoltare se stessi e quindi non ascoltando se stessi non ti ascolta l'altro, il fratello, e tantomeno si ascolta un altro che non vede e che eventualmente ha questa volontà di farsi sentire attraverso degli intermediari, delle persone che lo rappresentano, delle parole scritte nel passato che ancora oggi potrebbero per me avere un valore. È ancora molto difficile. Allora quel sentire senza ascoltare è una difficoltà grande, però si incomincia a risolvere a partire da se stessi. Non aver paura di ascoltarti per essere pronta ad ascoltare e per essere desideroso di ascoltare quello che è ancora più sopra. Posso chiederle un'altra cosa? E invece i profeti della Bibbia, loro come hanno fatto a capire che il Signore in quel momento li aveva scelti per portare la sua parola? Sì, è una domanda molto importante perché in base a questa domanda possiamo capire anche chi è il profeta e chi è il vero profeta. Perché poi nella Bibbia si pone il problema del vero profeta, di uno che veramente viene da Dio con la sua parola e non si inventa lui le parole e quindi diventa uno come i nostri profeti che giocano di anticipo. Ma giocano di anticipo secondo la loro fantasia, secondo i loro desideri, secondo anche i loro interessi. Il profeta non è un uomo di desideri, non è un uomo di fantasia, non è un uomo di interessi. È un uomo che ha messo queste tre realtà al servizio di un altro. Fantasia, interessi e desideri ce le ha, ma le ha messe al servizio di un altro. E per arrivare a capire di mettere queste tre cose al servizio di un altro è stata una grande fatica. Allora, il profeta biblico come ha fatto a capire? Ecco, ha capito perché ha sentito dentro di sé, ascoltandosi, un contrasto. Il contrasto tra ciò che lui eventualmente desiderava e ciò che la voce dentro di sé, avvalorata da fatti che succedevano intorno a lui, gli dicevano di fare. Un esempio, oggi, io so, vivo in questo territorio, vorrei disinteressarmi dei problemi della povertà del territorio, vorrei pensare a me stesso, a come poter stare bene e arricchirmi. Però sento una voce dentro che mi dice, no, devi interessarti ai fratelli che sono in difficoltà perché sono poveri, non hanno il lavoro, ma io non voglio farlo, non voglio farlo, voglio andare altrove. Mentre penso questo, mi bussano alla porta e viene uno e dice, eccellenza, perché così la gente mi chiama, io ho bisogno. Allora, il desiderio dentro di me che sento di andare oltre, la voce che mi dice, tu devi stare qui, e poi l'avvenimento di quello che ti bussa e ti dice, ho bisogno, lì è l'obbedienza a Dio. C'è quando? C'è il contrasto di te che non vuoi, c'è la voce che ti dice di farlo, c'è la persona, l'avvenimento che dici, tu questo devi fare. Infatti la parola, la parola, nella lingua ebraica, la lingua della rivelazione, si dice dabar. Il dabar è un'idea? No. È un qualcosa che senti, è un qualcosa che ti accade. Io sento che devo stare qui, ma non ci voglio stare. Ti accade il povero che arriva, e allora è il dabar. Senti, non vorresti e accade. Così nasce il profeta. Tra un non volere, un sentire e un accadere. Tutto questo si chiama in ebraico dabar. Questa è la parola di Dio. Un non volere, un sentire forte e un accadere. Quindi Don Pasquale in un certo senso è una chiamata, una vocazione. Certo, certo. Questo momento, ecco, in cui tu senti questi tre elementi dentro di te, il profeta sente questi tre elementi, sono testimoniati poi, se avremo modo di stare insieme, sentirete queste esperienze, no? Ecco, questi tre elementi che il profeta vive dentro di sé costituiscono la chiamata. Ed è interessante che la chiamata si pone all'inizio dell'esperienza, ma poi, concretamente, si ripete ogni qualvolta il profeta è chiamato a dire qualcosa al popolo in nome di Dio. E tante volte non vorrebbe dire quelle cose. Quindi è una vocazione che si ripete ogni qualvolta egli deve parlare, ogni qualvolta egli deve dire qualcosa. Non voglio, ma tu mi dici, annuncia. Ma quello che annuncio non è secondo i desideri miei, non è secondo le aspettative del popolo. Ecco, un altro elemento per il vero profeta. Non annunciare quello che il popolo si aspetta, ma annunciare quello che sta accadendo, che può accadere. Don Pasquale, io volevo porre l'attenzione su due aspetti. Innanzitutto, io penso che il profeta non ha subito dentro di sé, proprio in base a questo contrasto, anche una diminuzione della propria persona, cioè uno sminuire della propria persona, questo, e quindi l'interiorizzazione di cui si parlava prima. E anche un'altra cosa, cioè il coraggio di parlare, di magari affrontare, nonostante le proprie difficoltà, sono cose che io non sono in grado di dire, però devo dire e affrontare anche le difficoltà con gli altri. Quindi due aspetti, questo sminuirsi e questo coraggio di provare. Sì, due cose interessanti Tania ci sta proponendo. Ecco, nel cuore del profeta che cosa succede? Succede che deve quasi andare contro la sua volontà, ma poi con la memoria della sua vita, ascoltando se stesso, ecco che il profeta capisce, ma io ho questo carattere, ho fatto questa esperienza di vita perché il Signore mi chiamava a fare la profezia che io non immaginavo. Cioè, a un certo punto, quel contrasto diventa scoperta di se stesso. Cioè, uno si scopre non capace, poi riflettendo su come è fatto, su quello che gli è accaduto, su quella che è la sua personalità, dice, ma sì, il Signore mi ha chiamato proprio per questo, perché io sono un balbuziente, mi ha chiamato a dire una parola che un balbuziente non può dire. Sono un timido e mi ha chiamato a dire la dolcezza della parola che gli vuole comunicare. Cioè, a un certo punto scopri che quel contrasto invece è proprio la verità della tua persona che può essere al servizio della parola. Il coraggio. Il coraggio ti viene quando tu scopri, ecco che il Signore è vicino a te. Il Signore mi ha dato forza, dicono i profeti. E quando il Signore comanda, dice sempre, va, non ti spaventare, io sono con te. Allora, scoprissi inadatto, scoprire una parte segreta di sé che è in relazione a quello che io devo annunciare e sentire questa presenza, a un certo punto rendono il profeta un uomo speciale. Sì, perché il profeta è un uomo speciale, un uomo che riesce a fare questo raccordo interiore per dire qualcosa che Dio vuol comunicare al popolo. Ha parlato di profeta, però ha parlato anche di profeti, quindi ne presenteremo vari, ce ne illustrerà vari. Certo. Il percorso, come... sono molto curiosa, insomma, di sapere il percorso di questo nostro programma, come sarà improntato, su quali profeti ci presenterà. Sì, allora, questo nostro primo appuntamento era per dire cosa vorremmo fare, ma dico di più, questo primo appuntamento è per conoscerci, ci vedete, io ci sarò sempre, loro si alterneranno, conosceteci e questo è il primo scopo. Poi, il secondo scopo è chi è il profeta. Abbiamo capito che il profeta è il portaparola di Dio, una parola che è veramente di Dio perché fa un percorso nel cuore del profeta che il profeta stesso non potrebbe da solo fare. E poi, ecco, come si snoteranno gli altri appuntamenti? Si snoteranno prendendo le esperienze di questi uomini, di questi profeti, a partire da quelli che vengono considerati maggiori per la quantità di scritti che noi troviamo nella parola di Dio, nella Bibbia, quindi Isaia, Geremia e Ezechiele, e poi altri profeti considerati minori perché hanno minore quantità di scritti e il loro messaggio è molto più circoscritto a certi avvenimenti. Quindi è la conoscenza di questi uomini che sono diventati la bocca di Dio e in qualche modo sono anche diventati il cuore appassionato di Dio che per parlarci si compromette e fa compromettere anche questi uomini. Dio per parlarci compromette se stesso per noi e questi uomini si compromettono per Dio e per noi. Quindi molte figure profetiche, ciascuno con la propria caratteristica e quindi anche noi possiamo sentirci poi magari attratti da queste figure e capire dentro di noi quale possono essere le caratteristiche così da sentirsi più vicini, un profeta magari più vicino rispetto a quelli, alle differenze. Perché noi siamo come loro, abbiamo la nostra storia e le nostre sensibilità. E quindi come Dio ha utilizzato quella storia, quella sensibilità in quel momento e in quel luogo così oggi Egli si avvicina alla nostra storia, alle nostre sensibilità. Però una cosa importante vorrei dire, ecco, leggere la parola di Dio nell'esperienza del profeta significa accendere dentro di noi, ecco, la possibilità di vivere quella parola. Cioè la parola di Dio è vera perché si è incarnata nella storia di uomini come me. E prendendola da quella storia, non da idee o da ideali, la incarno nella mia. Quindi c'è un passaggio della parola da quell'esperienza alla mia esperienza. E in maniera ovviamente diversa, ma altrettanto vera, c'è il passaggio poi dalla mia esperienza all'esperienza di quella a cui io vado a comunicarla. Quindi questa nostra trasmissione la potremo vedere come un rimbalzare della parola, perché la parola è sempre così, rimbalza. Da quando esce dalla bocca di Dio rimbalza nella storia di un uomo, poi dalla storia di quell'uomo rimbalza nella storia di un altro uomo. E così via via in questa catena di ascolti. Quindi Don Pasquale, anche oggi, secondo lei, la parola di Dio può arrivare alle persone? Quindi esistono oggi delle persone che possono essere o potranno essere dei profeti? Sì. Allora... Cioè che riescono anche a portarci la parola come l'hanno portata i profeti della Bibbia? Proprio per il mistero di questo rimbalzare della parola, la parola arriva esclusivamente se ci sono i profeti. Anche oggi. Non può arrivare se non ci sono uomini che la fanno riflettere nella loro esperienza e la ricomunica secondo la loro esperienza. Perciò noi, battezzati, sappiamo di essere tutti i profeti, perché diamo la disponibilità a questo rimbalzare in noi della parola per poterla in qualche modo poi ritrasmettere agli altri, ricompresa della nostra esperienza, di modo che anche l'altro poi la possa ricomprendere, ecco, nella sua esperienza. Vi do questa immagine. La valanga. La valanga nasce da un fiocco di neve. Quel fiocco di neve arrotola un altro fiocco e poi ancora altro fiocco ancora. È così che da un fiocco arriva la valanga. Ora, la parola di Dio ha questo effetto. È il fiocco dell'unicità della parola che esce dalla bocca di Dio che poi si moltiplica nei tanti fiocchi che abbraccia tutti quelli che si fanno coinvolgere da questa valanga bianca che accarezza la nostra esistenza. Desidero ringraziarvi perché avete aiutato me, i nostri telespettatori, ma vi permetto di dire avete anche aiutato il Signore, perché chiunque presta, ecco, la propria intelligenza, la propria curiosità e anche le proprie necessità a Dio che parla è un aiuto a Dio e un aiuto agli altri. Quindi grazie a Tania, a Elisa e a Adriana. Ci rivedremo la prossima volta perché, ecco, iniziamo il nostro percorso con il primo profeta grande, il profeta Isaia. E cominciamo a vedere proprio come questo uomo si è trovato coinvolto in questa esperienza e la sua esperienza, a partire anche da un atto di obbedienza, è diventata possibilità agli altri uomini di conoscere la parola del Signore. In quel tempo in cui egli è vissuto e poi in tutti gli altri tempi in cui la sua esperienza è stata ascoltata come parola di Dio. È desiderio della redazione di questa trasmissione e mio personale di condividere anche con altre persone come voi questo nostro momento di ascolto della parola e di domanda alla parola. Per cui chiunque desidera in qualche modo partecipare, ecco, può chiedere alla nostra redazione e col tempo vediamo di alternare la presenza a questi nostri incontri. Arrivederci allora al prossimo incontro con la parola e al prossimo ascolto comune della parola. Possiamo continuare ad ascoltare la parola di Dio e a dialogare insieme sullo spazio riservato sulla rivista In cammino con San Gerardo, la rivista della famiglia redendorista, dove la parola di Dio fa sì che le idee diventino valori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.